gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia boris johnson porta fuori l'inghilterra dal dall'europa e matteo salvini esulta dice grande vittoria con la lega al governo legami stretti fra i nostri popoli quindi boris johnson un sovranista boris johnson che piace alla lega quindi esce vittorioso dall'accordo con ursula von der leyen a esultare con il regno unito e anche matteo salvini il leader della lega il commento arriva puntuale sulle sue pagine social dove scrive grande la soddisfazione per l'accordo raggiunto tra regno unito e unione europea ora la brexit è completa vittoria di democrazia e libertà di scelta dei cittadini con la lega al governo ci saranno legami ancora più stretti fra i nostri popoli in nome dell'amicizia e del rispetto reciproco così una frecciatina all'europa governata dalla germania beh intanto diciamo che diciamo che forse sì certo è che il numero della lega non vede così lontano un governo a trazione centrodestra quindi matteo salvini è convinto come dicevamo assieme a a giorgetti che questo governo abbia i giorni contati le ore contate ma sarà veramente così potrebbe essere giorgia meloni non ne è convinta io ho dei dubbi che il governo dello stipendio si auto licenzi ecco questa è la mia la mia idea intanto matteo salvini parla del parla del del vaccino voi sapete che oggi è arrivata sono arrivate le prime le prime dosi del del vaccino scortate addirittura da cinque macchine della polizia più che un più che un non era un camion ma era un diciamo un furgone matteo sul vaccino dice che ha le sue idee ritiene che sia importante spiegare educare accompagnare mai obbligare non sono mai d'accordo con obblighi che riguardano la vita delle persone dice il segretario della lega lui che è impegnato nel giorno di natale nella consegna di pacchi regalo la famiglia bisognose milanesi ha detto che riguardo il vaccino seguirà il consiglio del suo medico curante e poi dice io mi farò vaccinare quando sarà il mio turno e spiega che prima di me ci sono altre persone che ne hanno bisogno matteo salvini specifica questo perché si era si sentiva la voce che i politici avrebbero voluto vaccinarsi prima di tutti no con la scusa adesso tutti che vogliono fare il vaccino in televisione non so se avete se avete visto tutti in televisione no tutti tutti diventate delle star ecco con la scusa di facciamo prima il vaccino lo proviamo facciamo vedere il politico dice facciamo vedere che che non c'è problema e intanto si fanno il vaccino per primi e chi si è visto si è visto matteo salvini e anche giorgia meloni dicono no noi faremo il vaccino quando sarà il nostro turno ecco sono anch'io d'accordo che altro che i politici per primi forse i politici per ultimo dovrebbero fare il vaccino ecco beh intanto diciamo che matteo salvini è andato a milano con i city angel e che cos'è intanto lui è andato come dicevamo a portare doni di natale doni di natale è andato a portare qualcosa diciamo agli ultimi e mentre distribuiva pacchi dono ai più bisognosi con un gruppo di amici volontari dei city angel dice io a milano ce l'ho mio milano ce l'ho nel sangue ma ora c'è una missione nazionale perché gli chiedono se se mi candido a sindaco di milani lui fa capire che questa è una cosa è una cosa locale quella del sindaco di milano come giorgia meloni rifiuta la candidatura a sindaco di roma anche matteo salvini rifiuta la candidatura a sindaco di milano infatti proprio alla domanda candidato sindaco a milano lui ci beh il mio grande sogno se i milanesi vorranno prima della pensione però c'è una missione nazionale da portare avanti dice c'è un intero paese che ha bisogno salvini impegnato con un gruppo di amici attivo nei city angel a consegnare pacchi dono alle famiglie bisognose nel giorno di natale sollecitato dei giornali è tornato sulle prossime elezioni amministrative del capoluogo del capoluogo lombardo e ha aggiunto ho sempre detto che il sindaco nella propria città è la cosa più bella e più difficile io milano dice ce l'ho nel sangue nel cuore nella carne prima della pensione non mi dispiacerebbe ma mi sembra che ci siano candidati anche più giovani di me all'altezza beh insomma certamente roma per la per la meloni e come salve come milano per salvini la loro la loro città il capoluogo di di regione in questo caso anche per meloni la la capitale d'italia però andare a candidarsi da leader nazionale di un partito a sindaco seppur di una grande città è una sconfitta realmente parliamoci chiaro a candidarsi per roma va bene calenda perché il suo partito è un partito dal 3 per cento lui aveva detto che i partiti i partitini lui non li avrebbe fatti anche renzi ha detto che i partitini lui non non li avrebbe fatti perché non servono a niente sono solo un impiccio per quelli più grandi quindi la candidatura di calenda sindaco di roma è proprio è proprio per dire il mio partito non è non era quello che immaginavo e così anche renzi aveva parlato dei partitini lì si chiudono eccetera eccetera però stanno aspettando di vedere di fare il grande salto io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche in facebook in instagram e nell'altro canale di youtube teleitalia seconda rete grazie per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata a tutti quanti grazie a tutti